ci siamo ragazzi siamo partiti ciao a tutti bentornati sul canale associazione maggiolina questa è la prova di trasmissione stiamo vedendo la schermata stiamo per iniziare e credo che sentiate la mia voce se va tutto bene cortesemente scrivete un ok in chat così poi andiamo ad iniziare intanto saluto arnaldo letizia franca emanuela raffaele edo giampiero e tutti gli amici che sono arrivati già prima in chat e quindi abbiamo già fatto due chiacchiere bene vedo i vostri ok stavo temporeggiando un attimo per sentire per vedere la linea telefonica se è tutto a posto se è a posto se regge la trasmissione sembra di sì possiamo iniziare ciao a tutti bentornati sul canale youtube di associazione culturale maggiolina ad una delle nostre dirette delle 18 sapete che in questo periodo ci stiamo facendo reciproca compagnia tutte le sere alle 18 e parliamo di computer parliamo di smartphone o tecnologie in genere ma informatica bene da questa sera iniziamo una nuova serie dove andiamo a parlare di microsoft word online ora vi spiegherò bene di cosa si tratta e di perché proprio online fatemi visualizzare la schermata della chat eccoci eccoci qua allora facciamo come al solito io parto raccontando il mio argomento e poi risponderò alle varie domande per cui adesso vado a segnare qui in chat una riga e da questa riga in avanti poi inizierò a rispondere alle domande allora innanzitutto facciamo un attimo di chiarezza su questa cosa del perché la facciamo che cos'è eccetera eccetera allora microsoft word è un programma di video scrittura serve a scrivere a computer documenti lettere preventivi libri poesie o documenti di qualsiasi genere dove c'è scrittura si utilizza la video scrittura ed è una cosa indispensabile ad un corso di computer base sempre si insegna la video scrittura perché non è pensabile di imparare ad utilizzare il computer senza saperci scrivere allora vediamo vedo che la linea va un po va un po a salti allora facciamo facciamo in modo che non lo che non va che non che non succeda questo per cui proviamo a farlo al volo vediamo se riesco a ottenere questo risultato ora ci sto provando passo da una linea telefonica all'altra attualmente sono connesso con questa vediamo se riesco a passami controllare per vedere se tutto quanto a posto sì a questo in questo momento siamo con la linea più veloce quindi non dovremmo più avere problemi vediamo ok open office che sono due programmi di video scrittura gratuiti quindi si fa video scrittura con questi lasciatemi ringraziare gilberto per il super sticker grazie infinite e anche giuseppe per la super chat grazie infinite ragazzi per noi è importantissima ok allora torniamo a noi non abbiamo mai fatto un corso di video scrittura con word word è il programma per video scrittura a pagamento della microsoft noi però utilizziamo questa sera e le prossime volte che faremo questa lezione quelli gratuiti quello gratuito allora ragioniamo bene office è il programma che tutti quanti conosciamo office serve a gestire l'ufficio diciamo come come dice il nome e si compone di excel che è il programma per fare calcoli word che serve per scrivere e altri programmi powerpoint access e quant'altro quindi per utilizzare microsoft office e di conseguenza microsoft word che fa parte di office si deve pagare perché è un programma che si compra quindi molti di voi hanno office di qualche versione nuovo un po più vecchio eccetera ma ce l'hanno da qualche tempo non so da quanto ma da tempo c'è una versione di office online gratis libera per tutti legalmente utilizzabile noi vogliamo fare diciamo questo corso imparare a utilizzare word nello specifico sulla versione online gratis quella sulla nuvola ecco perché la copertina con le nuvole con le nuvole alle spalle in futuro faremo anche il corso specifico sul programma scaricato all'interno del nostro computer ma dato che siamo qui a farci compagnia tutte le sere alle 18 quando faremo il corso di microsoft word facciamo quello online ha dei vantaggi e degli svantaggi è uno strumento diverso il primo vantaggio è che si può usare gratis da qualsiasi dispositivo in grado di collegarsi a internet quindi da qualsiasi computer tablet smartphone ovviamente la videoscrittura si fa computer perché non ha tanto senso farla in altri sistemi ma un qualsiasi computer per cui io posso da qualsiasi computer anche non mio sedermi scrivere qualcosa vedere quello che ho già scritto modificarlo stamparlo e altro come se io lo avessi sempre con me sulla nuvola gratuitamente ed è ufficiale microsoft per cui è il word ufficiale della microsoft perfettamente compatibile con tutti gli altri word della microsoft e perfettamente utilizzabile in tutto e per tutto e quindi vediamo come fare qualcuno mi chiedeva prima pad se è la stessa cosa no word pad ora è sempre di microsoft ma non è word è un programma più leggero con meno con meno funzionalità portate pazienza ma questa sera ho i telefoni che vanno a mille con meno funzionalità quindi word pad c'è su tutti i computer che hanno windows io ce l'ho qui questo è word pad serve a fare videoscrittura e va benissimo però word è un'altra cosa fa molto fa molto di più in definitiva per cui quando si parla di videoscrittura si parla sempre di word vedo che la linea telefonica sta facendo fatica questa sera teniamo duro perché poi spero che potrà andare meglio e soprattutto ci sarà comunque la registrazione quindi la registrata sarà bella fluida eventualmente ma vedo che ce la facciamo dai allora andiamo subito subito è già un po che parlo andiamo a vedere questo word allora rimpicciolisco questo browser stiamo per andare a usare il word gratuito online ci vado su su internet utilizzo un browser internet per andarci perché il word gratuito online è su internet dovendo scegliere tra tre browser che ho a disposizione chrome firefox o edge quale scelgo vanno bene tutti e tre ma quale scelgo dato che è un prodotto microsoft preferisco scegliere il browser della microsoft ovvero edge perché sicuramente è compatibile al 100 per cento lo saranno anche gli altri ma se devo utilizzare un determinato strumento di una determinata casa preferisco farlo con l'oggetto principale e originale quindi microsoft edge ho aperto sono arrivato in questa pagina qui e ora devo cercare il mio word e scrivo in google office online è la stessa procedura che stiamo che abbiamo fatto per one drive per chi mi ha seguito nelle dirette precedenti perché è sempre un prodotto microsoft trovo office 365 login microsoft office questa pagina va bene in pratica office.com è l'indirizzo premo e a questo punto devo autenticarmi in passato nei video precedenti avete visto che io mi ero autenticato ora lo facciamo di nuovo in modo che tutti possano vederlo quindi c'è scritto accedi come as maggiolina outlook.it mi ricorda il computer sì dico accedi e ecco allora il mio account as maggiolina chiacciola outlook.it metto la password una cosa importante torno indietro di un passo perché non l'ho detto questo è l'account microsoft quello che tutti abbiamo per utilizzare il computer ne abbiamo già sicuramente uno di account microsoft se non ce l'abbiamo ci si può registrare registrare nuovamente va bene gli dico qua dimentica questo account così faccio finta di non essere di non essere io eccomi qua allora www office.com arrivo qua benvenuto ottieni office o accedi ottieni office no perché vuol dire comprarlo io voglio usare quello gratis accedi quindi e ora mi dice chi sei e quindi come dire metti il tuo account microsoft non ne hai uno non ce l'hai non non sai di averlo non ce l'hai fare clic qui per trovarne uno in questo modo siamo possiamo entrare serve obbligatoriamente l'account microsoft l'azienda vi mette a disposizione office online gratis da utilizzare su internet ma serve la registrazione presso di loro ed è gratuita senza nessun problema e ce l'abbiamo già perché se abbiamo windows in un qualche momento l'abbiamo fatta gmail e il mondo google vogliono il loro account per i loro servizi microsoft giustamente vuole il suo account per i suoi servizi quindi qui io scrivo i dati del mio account perché ce l'ho già per cui as maggiolina chiocciola outlook.it e se per qualche dubbio guardate i video su onedrive perché è lo stesso discorso se non ho già un account lo posso fare qui quindi se non hai l'account fanne uno nuovo qui ma ce l'ho già non voglio farne mille se ce l'ho metto quello dico avanti password perché mi devo autenticare e dico avanti a questo punto entrerò in un'area privata eccola qua dove posso avere anche i miei documenti questi documenti che sono un po a caso per me sono documenti che io ho creato con l'office online quindi office gratuito legalmente utilizzabile crea documenti di qualsiasi genere che salvo sulla nuvola in questo modo quando domani sono su un altro computer faccio la stessa procedura cioè mi autentico e mi trovo di nuovo office a disposizione con gli stessi documenti che posso comunque scaricare stampare eccetera anche su altri computer questa pagina la metto addirittura nei preferiti così la prossima volta dico fatto eccola qui così la prossima volta arrivo subito facciamola questa prossima volta quindi ora vi ho fatto vedere come arrivare fino lì ma domani quando io ho bisogno di lavorare apro microsoft edge premo su office home page di microsoft ed eccomi qua vabbè gli devo dire l'account perché mi sono dimenticato di memorizzare la password ora lo faccio scrivo la password e gli dico tieniti a mente memorizza questo account così domani non faccio neanche questo passaggio qui dico accedi e ora sono dentro rifacciamo un'ultima volta chiudo edge office home page di microsoft ed eccomi qua vedete che è velocissimo quindi il mio computer si tiene a mente per cui ho tutti i programmi del pacchetto office che mettono a disposizione online e i miei documenti quello che ho creato fino a questo punto noi vediamo quindi che ci sono vari programmi anche powerpoint e quant'altro ma in questa serie con le nuvole diciamo vogliamo lavorare su word video scrittura per cui apro qui appare questa schermata che impareremo a conoscere dico documento vuoto quindi a questo punto io sono qui e vedo il mio word eccolo qua che me lo sta che me lo sta aprendo perfetto questo è microsoft word online gratuito ci siamo stiamo per iniziare a usarlo vorrei distinguerlo vorrei che voi foste in grado di distinguere le versioni tra office online microsoft word online gratuito che è questo a quelle che da quelle che invece potreste avere sul vostro computer io qui ho word questo è la versione a pagamento questo word è nel mio computer installato nel mio computer ed è stato comprato l'ho comprato l'ho pagato l'ho messo nel mio computer e quando voglio usarlo anche se non c'è internet faccio doppio clic lui si apre ed eccomi qua vedete che ci assomiglia la schermata che vediamo qui assomiglia molto a quella di prima perché è lo stesso programma faccio documento vuoto ed eccomi qua questo è il programma di scrittura questo a pagamento ha molti più comandi può fare più cose ma scopriremo poi che non tantissimo di più per cui ok questo funziona più velocemente sul mio computer ma solo su questo computer perché l'ho pagato solo per questo computer e quindi eccolo qua voglio farvi vedere la versione ma come faccio a sapere quale versione allora torno su file in modo che ho di nuovo questa schermata e qui in basso a sinistra c'è account premo e qui arrivo in questa schermata dove riconosce il mio account quello di prima che ho messo di là sullo online ma soprattutto qui mi dice microsoft office professional plus 2019 quindi io ho la versione di office professional plus 2019 quando si segue un corso se la versione non è uguale i comandi possono essere disposti diversamente se avete un office 2007 ovviamente non farà le stesse cose del 2019 perché dal 2007 al 2019 sono passati degli anni e quindi sono andati avanti per cui è normale che uno vecchio non faccia le stesse cose del nuovo non avrebbe senso altrimenti ringrazio tiziana grazie infinite per l'uso della super chat che è un sostegno importantissimo per noi prodotto attivato significa che è stato pagato che è stato inserito il codice di licenza e ci siamo se il prodotto non è attivato non potrete usarlo questo è una versione a pagamento se qui ci fosse scritto microsoft office 365 è la versione più nuova ancora quella è ad abbonamento mentre io la 2019 ho pagato una tantum l'ho comprata l'ho pagato e adesso questo è mio senza dover pagare altro per gli anni futuri posso usare sempre questo che rimarrà però sempre uguale sempre 2019 e quindi così com'è se o meglio chi ha quella 365 sta per 365 giorni all'anno probabilmente cambieranno nome presto da quello che ho visto comunque quella in abbonamento dove tu paghi un canone mensile pochi euro devo dire al mese in quel caso tu hai una versione sempre nuova perché ti si aggiorna continuamente la mia resta sempre così l'altra invece continua ad aggiornarsi ovviamente bisogna continuare a pagare per essere aggiornati ma è piuttosto conveniente devo dire per cui è una è una scelta che ormai potrebbe valere la pena di fare quella in abbonamento perché hai hai tanto quindi queste due 2019 365 si pagano e le hai qui sul tuo computer quella online quindi qua chiudo e torno a quella online è gratis ci sono meno comandi ma non tanti meno e serve un po' da supporto un po' per chi non la vuole pagare un po' per usare word comunque ad esempio intanto ringrazio Sergio grazie infinite Sergio per l'uso della della super chat grazie infinite ad esempio in questo periodo mio figlio riceve i compiti eccetera li riceve col word lui non ha la versione a pagamento potrebbe usare libre office open office ma certe cose sono fatte con microsoft e quindi ha bisogno di vederle in microsoft versione online apre i documenti di microsoft di word di powerpoint eccetera senza nessun problema e quindi tutti quanti possiamo aprire questi documenti perché questa versione di office è gratuita poi ognuno ovviamente usa quello che vuole in questo in questi video parliamo di questo online allora ci siamo arrivati finalmente siamo qui sul nostro word online e vogliamo dargli un'occhiata voglio vedere un attimo che cosa ho a disposizione cosa cosa vedo beh innanzitutto vedo la mia pagina questo è il foglio ne vedo un pezzo se giro la rotella il foglio scorre ecco che sono arrivato in fondo quindi vado avanti indietro poi questo foglio può essere zoomato il più e il meno qua mi permette di rimpicciolire la pagina se voglio vederla nel suo insieme perché magari devo metterci delle foto devo gestirle in qualche modo oppure la ingrandisco se voglio leggere bene quello che c'è scritto io invece io invece di usare gli occhiali preferisco avere la bella grande dato che abbiamo degli schermi molto grandi tante persone hanno degli schermi molto grandi la visualizzazione ottimale è questa schermo pagina grande al massimo mantenendo un leggero spazio cioè voglio vedere dove finisce la pagina perché potrei ingrandire ancora di più però così non mi rendo conto dei margini per cui una visualizzazione un po più indietro così pagina grande al massimo con con i margini visibili in modo che so quando è finita la pagina quando scrivo quando guardo il documento nel suo insieme invece vado più indietro con il più e il meno qui oppure tenendo premuto CTRL e girando la rotella ma in questo caso meglio di no su quella online vedo che non è non è la stessa cosa quindi come non detto un altro posto dove posso cambiare la pagina è questo qui visualizza allora prima di andare a premere abbiamo visto il foglio abbiamo visto lo zoom qui ora diamo un'occhiata ai comandi i comandi sono questi vedete che sono un po pochi in realtà è un po compressa la barra dei comandi se io premo qui si allunga ecco questa è la barra dei comandi classica che sono abituato a vedere anche nelle altre nelle altre versioni di word quelle a pagamento per dirci per cui la barra dei comandi è fatta in questo modo a schede home la scheda casa dove ci sono i comandi più comuni poi la scheda inserisci premo cambiano i comandi sotto e mi servono per inserire le cose le immagini le tabelle altre cose la scheda layout per l'impaginazione posso girare la pagina posso mettere due colonne insomma posso fare un po di cose in tal senso riferimenti revisioni quindi visualizza la scheda per la visualizzazione che mi permette di usare anche lo zoom eccolo qua lo zoom lo zoom è al 140% se premo qui lo zoom al 100% il 100% vuol dire che equivale alle dimensioni del foglio in linea di massima io dovrei poter appoggiare il foglio e vederlo più o meno grande uguale in realtà lo vedo un po più grande però il 100% è la visualizzazione più normale del foglio però qua io posso regolare scegliere 150 150 e altre visualizzazioni una cosa importante che c'è e queste cose che ci diciamo sempre una cosa importante valgono qui come per il programma a pagamento faremo il corso per il programma a pagamento specifico registrato non in diretta magari quindi più più stringato però le cose che dico qua le si possono applicare anche di là al 99% tutte perché tutti i comandi che ci sono qui possono essere visti anche di là e una cosa importante è questa allora voglio chiudere vediamo torno qui vado fuori da questo documento non ho scritto niente vado fuori torno a office quindi torno nella schermata precedente eccomi qua questa è la schermata di tutti i documenti voglio aprire un documento esistente perché viene meglio questo super pepita il mostro no questo pepita il mostro sul lago di mantua apro questo documento ora si ora arriva intanto ringrazio dario per l'uso della super chat grazie infinite dario allora voglio modificare questo documento e qui mi dice senti questo documento che è aperto lo vuoi modificare nell'applicazione che è nel computer o questa nel browser a me da questa scelta perché io le ho tutte e due nel senso ho anche quella a pagamento sul computer no qua lavoriamo qua nel browser ora si apre bene e io posso lavorarci questo è un documento complicato per questo mi ha fatto mi ha fatto la domanda perché arriva da altri programmi di videoscrittura diamogli il tempo di aprirsi qui dipende anche dalla linea telefonica dal mio computer ma più che altro dalla linea telefonica e poi sarà 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 pronto vediamo se arriva altrimenti ne apriamo un altro o lo riapriamo al volo diamogli diamogli un secondo di tempo di solito è immediata la schermata per cui non capisco perché ci impiega così tanto aggiorniamo aggiorniamo la pagina per vedere se fa prima dai facci vedere eccolo qua allora modifica il documento modifica nel browser probabilmente è stato cancellato non ce la facciamo ne apro un altro allora ho chiuso torno indietro super pepita il mostro ci assomiglia vediamo se questo arriva in modo che possiamo fare la nostra la nostra visualizzazione modifica il documento nel browser intanto vedo le vostre domande questi documenti possono essere memorizzati nel cloud sulla nuvola o anche nel computer io ho piena padronanza è ovvio che se lo uso magari in giro su un computer non mio mi è comodo salvarlo là questa schermata qui gialla viene fuori perché questo ripeto è un documento particolare non è stato creato con word ma con libre office però word lo apre lo stesso entreremo in seguito in quel discorso mi interessava farvi vedere questo adesso abbiamo parlato della visualizzazione se vado in visualizza e scelgo visualizzazione di lettura premo ora mi viene mostrata la pagina in modo tale che io possa leggerla comodamente eccola qua e quindi faccio scorrere e leggo la pagina senza altri strumenti attorno ma ce l'avevamo anche prima questa cosa mentre invece in modifica il documento nel browser posso andare a lavorarci a tutti gli effetti e quindi fare e fare le modifiche quindi siamo arrivati sempre a questo punto qui ho tutti i comandi per modificarlo questo documento va bene allora direi che non abbiamo fatto ancora niente in definitiva dobbiamo ancora imparare a scriverci dentro però ci sono un sacco di domande e vorrei quindi darvi darvi spazio a queste domande quindi questo documento lo chiudo e mi ritrovo qui qui vediamo cosa c'era era un altro documento bianco lo chiudo e torno qua adesso guardiamo le vostre le vostre cose per cui quello che mi interessa di questa sera che ci ricordiamo come si fa ad entrare lo faccio un'ultima volta sono fuori apro su un browser io uso microsoft edge posso cercare office online o se ce l'ho memorizzato premo microsoft office online e dato che mi riconosce il mio account è già inserito sono subito qui con word posso entrare in word o in qualsiasi altro programma entro in word così siamo in questa posizione pronti ad iniziare a scrivere e nel prossimo video vedremo tutti i vari passaggi ora diamo spazio alle vostre domande quindi torno indietro alla riga dalla quale abbiamo iniziato a tenere i commenti eccola qua allora beh ci sono un po' di saluti quindi saluto Gianluca Raffaele Nicola Aldo Susi Gianfranco e la super chat di Giuseppe l'ho già ringraziata grazie saluto Carmen Giuseppe Sonia Gianni Emanuela allora andiamo avanti salto ancora tutti i saluti perché altrimenti passiamo tutto il tempo a salutarci cosa che mi fa molto piacere arriviamo a Matteo che dice io ho open office vecchia versione devo aggiornarla o disinstallare e mettere la versione attuale la installai in uno dei tuoi corsi di alcuni anni fa non importa allora le versioni precedenti facciamo così io non ho open office al momento ho libre office e ce l'ho qui vediamo lo vado a prendere libre office è un'altra versione ovviamente quindi un programma diverso ma sempre di videoscrittura che adesso vado vado ad aprire di solito quando li apri ti chiede l'aggiornamento non è obbligatorio ma se ti chiede di aggiornarlo e se il tuo computer è recente aggiornalo ah ho sbagliato tra l'altro questo è il foglio di calcolo allora torniamo aggiornalo pure libre office dove ce l'ho ecco questo libre office word aggiornalo pure così hai le nuove funzionalità altrimenti puoi andare quando c'è il punto di domanda vediamo se lo troviamo da qualche parte o instrumenti anche se questo è un programma diverso o qui sulle righine informazioni su libre office spesso ho gli aggiornamenti spesso sono in questa posizione qui comunque fa niente lo puoi aggiornare semplicemente lo aggiorni e lui si fa all'ultima versione quindi vale la pena avere l'ultima versione allora vediamo cos'altro dice marco su mac non ha accesso non ha access perché access va solo su sistemi microsoft allora access che è questo programma qui di cui c'è anche il corso adesso dove ce l'ho qui access serve eccolo qua serve per creare database e quindi gestionali nel mondo del computer è per mondo microsoft non so se c'è per per apple e marco dice non c'è ma non c'è mai nella versione online quindi access non c'è nella versione office online quindi se è quello che mi stavi chiedendo marco qui non c'è nel mio e non c'è neanche nel tuo perché access non è un programma che può funzionare online su windows ovviamente versione installata sì su mac sinceramente non lo so se funzioni ma temo di no in questo caso allora roberto ci sono interruzioni anche sul cell e vabbè un po' è stato è stato il mio è stato il mio cellulare all'inizio che aveva difficoltà adesso abbiamo abbiamo cambiato linea ci siamo messi messi a posto allora roberto no roberto abbiamo già visto Gianni la versione online mi sa che ha molte limitazioni rispetto a quella del pacchetto a pagamento allora molte limitazioni no delle limitazioni sì ma ha un grande vantaggio è gratis quindi la possono usare tutti e si può utilizzare la nuvola archiviare le cose ci si può lavorare al volo anche ovunque a volte mi capita ripeto di non essere sul mio computer devo modificare un documento lo apro faccio la modifica e quella modifica è fatta sempre e per tutti quindi non è una scelta uso l'online o uso quello a pagamento è un'opportunità a volte uso uno a volte uso l'altro oppure non voglio comprarla e uso quella gratis me la faccio andare bene lo stesso oppure ovviamente LibreOffice OpenOffice eccetera eccetera quindi quando vi faccio vedere delle cose non è mai un si fa così è un'opportunità che abbiamo a disposizione nel computer dobbiamo un attimo renderci conto se vale la pena utilizzarle o no e poi sarete in grado di decidere questa cosa allora vediamo allora Emanuela dice ogni tanto ti blocchi ma era prima adesso avremo sicuramente risposto mi dite dei vari blocchi per fortuna c'è la registrazione che poi si vedrà in continuo allora vediamo cosa dice Nyang ragazzi super sticker mi chiede vabbè quello è un altro discorso poi vi avrete sicuramente risposto allora passiamo ai vari blocchi domenico allora il pacchetto a pagamento è superfluo no perché il pacchetto a pagamento ha più cose diciamo che se ti trovi bene con questo gratis e vuoi qualcosa di più può essere il caso di comprarlo teniamo conto che in passato si comprava e basta quindi c'era solo la versione a pagamento adesso c'è anche la versione gratis che può essere appunto un di più ripeto io ho quella pagamento ma a casa sul mio computer se vado a lavorare da un'altra parte e non ho preso sul mio computer perché è un fisso e oppure non ho il portatile a disposizione posso comunque lavorare su Office che è un programma che mi è familiare conosco e ho tutti i documenti lì senza bisogno di averlo pagato anche là eccetera quindi è un'opportunità in più allora Michele va bene sta aggiornando la pagina vediamo cosa dice Cristina comunque da ieri anche io ho problema di connessioni allora quindi Microsoft account Microsoft obbligata chiede Sergio sì abbiamo visto appunto account obbligatorio Luigi la versione online cosa hai in meno rispetto a quella a pagamento te ne accorgi quando la sai usare in maniera approfondita quindi un po' alla volta vedremo adesso questa è gratis ce l'abbiamo tutti iniziamo a usarla e ci siamo però la versione online non è detto che abbia solo cose in meno potrebbe avere anche delle cose in più e anche in questo caso vedremo per cui può essere utile anche per fare certe cose allora Giuseppe vabbè sta parlando con Niang vediamo cosa dice Carlo ma se io ho già un servizio Microsoft posso usare la stessa mail per accedere a Word Online assolutamente sì se tu hai già un account Microsoft come succede per la maggior parte di noi perché tante volte ci viene richiesto per anche solo per autenticarci al computer o se ho Skype eccetera metto l'account all'inizio e siamo a posto posso entrare perché quella cosa è già questa cosa di Microsoft Office Online è già compresa nell'account e che tante volte non sappiamo che c'è e quindi non l'abbiamo mai usata in definitiva allora Gianni vanno su OneDrive sì tutto quello che salvo questi documenti sono su OneDrive il servizio nuvola di Microsoft allora vediamo cosa dice Niang ma sta parlando state parlando tra di voi va bene Alessandro se invio da Gmail sul PC a Tiscali la mail arriva mentre se lo faccio sul telefono no quale può essere il motivo che la casella email del telefono non è correttamente configurata per quanto riguarda il server in uscita generalmente poi bisognerebbe vedere nello specifico ma quello è il motivo di solito allora utilizzo il professionale di Microsoft lo salutiamo iGlander iGlander dice ciao Daniele posso scaricare il documento salvato sulla nuvola di Microsoft certo eccolo qua super pepita il mostro 3 pallini vediamo apri nel browser raggiungi rimuovi dall'elenco no si può scaricare comunque vediamo allora se lo apro attendiamo che si apra andiamo in modifica vediamo qua sui 3 pallini se c'è scarica 3 pallini scarica io non lo uso spessissimo perché quando lo uso online di solito sono online ma so per certo che si può scaricare eccolo qua che adesso è arrivato e ce l'ho in download quindi vado in download si è aperto sull'altro schermo eccolo qui e si potrà scaricare da più parti non solo da dove abbiamo visto lì eccolo qua super pepita il mostro questo è un ODT perché questo documento l'ho creato in passato su OpenOffice e riesco a guardarlo modificarlo e usarlo anche sul Word Online quindi c'è anche compatibilità dei documenti allora poi vediamo cosa dice Nyang Daniele si può salvare un documento di lavoro con Microsoft nel computer visto che quando voglio salvare trovo solo OneDrive sì certo allora vediamo se andiamo su un documento nuovo facciamo così un documento nuovo di Word vediamo che opzioni abbiamo a disposizione documento vuoto vediamo se arriva perché ho chiesto vuoto eccolo qua che adesso me lo dà ok quindi corso of Word Online facciamo un grassetto volete vedere una cosa nuova dato che proviamo proviamo una cosa nuova allora questo allora ingrandiamo intanto un po' questa ad esempio è una funzione che c'è solo online dettatura almeno per quanto ne so premo consento l'utilizzo del microfono ora mi ha sentito parlare e quindi ha scritto del microfono per cui io parlo e lui scrive virgola mi piace questa cosa del fatto che io parlo e lui scrive da solo punto a capo ero curioso di vedere se andava a capo da solo c'è andato però ha scritto punto invece di fare il punto ok qui si tratta poi di sapergli parlare nel modo giusto spengo il microfono fine della dettatura che posso andarla a spegnere ecco ad esempio questa è una cosa in più file per salvarlo vediamo dove lo posso salvare lo voglio salvare vorrei salvarlo nel mio computer vediamo se posso salva con nome salva con nome rinomina scarica una copia scarica una copia nel computer premo scarica una copia il documento è pronto scarica e ora arriva nel mio computer si chiama documento 7 perché non gli ho dato un nome l'ho semplicemente scaricato ma va bene mi accontento così allora la prossima volta lo sappiamo e potremo dargli il nome sto andando in download a vederlo documento 7 volendo posso aprirlo col mio computer io sul mio computer ho word quello ufficiale se clicco due volte il mio word office 2019 si apre eccolo qua abilita la modifica e adesso posso lavorarci quindi l'ho scritto online da un'altra parte e l'ho salvato direttamente sul computer in quel caso se fossi stato da un'altra parte l'avrei salvato da un'altra parte sull'altro computer però ecco qua che ho fatto il discorso bene vediamo sempre le domande Matteo qui chiudiamo così ci teniamo davanti il programma che ci può interessare questa finestra la chiudo e sono di nuovo qui qui adesso potrei anche salvarlo online allora file salva con nome salva con nome qui gli posso dare il nome quindi lo salvo sulla 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 nuvola documento invece di documento 7 allora lo chiamo dettato dato che ho dettato il testo e questo documento adesso viene salvato io esco da qui voglio vedere se avesse finito di salvare perfetto salvato esco da qui sui pallini vado in office dove c'è tutto e adesso c'è il documento dettato perché è in prima posizione perché è stato l'ultimo che ho utilizzato questi sono i file recenti ne parleremo in uno dei prossimi nei prossimi video allora vediamo Matteo ma conviene avere tante videoscrittura sì allora di solito ne hai una quella sai usare quella vai però il fatto di averne più di una mi permette anche di aprire formati diversi mi permette di fare una cosa con uno che magari con un programma che magari riesce a fare meglio la tal cosa oppure con l'altro che riesce a far meglio l'altra cosa devo dire che il Word versione a pagamento soddisfa un po' tutti quando hai quella sei a posto però se ti abitui e se sai usare LibreOffice o OpenOffice non hai bisogno neanche neanche di Word quindi dipende se ne puoi usare anche una sola di certo il WordPad non è sufficiente o Word o OpenOffice o LibreOffice oppure vengo su Office Online oppure vado su Google Documenti che è il programma di videoscrittura online del mondo Google anche di quello parleremo perché anche quello fa un sacco di cose allora quelli gratis conviene averli se dovessi pagarli tutti direi no bene scelgo uno e basta in sostanza allora Ennio Daniele pago un canone annuo a Microsoft Office di 69 euro è giusto andiamo a vedere vogliamo sapere quanto costa allora da qualche parte ci sarà scritto vediamo se lo trovo adesso acquista Office 365 vediamo allora Office 365 costa 7 euro al mese vediamo se mi dice qualcosa di più c'è anche la versione annuale dove appunto siamo su quella cifra lì perché se pago tutto in un colpo pago meno 69 mi dicevi è come se fossero 7 euro per 10 mesi quindi risparmio un paio di mesi è così volendo il discorso allora vediamo cos'altro si dice Nica ma se scarico un documento scritto con Word Online sempre che si possa si può perché appunto abbiamo visto se non ho Office sul PC lo devo aprire con un altro programma tipo OpenOffice sì se tu scrivi una lettera con quale programma non importa che sia Office Online Google Documenti LibreOffice OpenOffice quel programma potrà essere aperto solo da un altro programma di videoscrittura meglio se è lo stesso cioè se ho scritto nel mondo Word se apro con un Word è l'ideale ma ormai tutti questi programmi di videoscrittura lavorano in compatibilità quindi vediamo che io in Word quello normale oppure anche quello online riesco ad aprire un documento di OpenOffice e viceversa proprio perché altrimenti le persone erano troppo vincolate a una versione piuttosto che all'altra quindi tutti quanti leggono i documenti degli altri magari se scrivo qualcosa in Word e poi lo apro con OpenOffice o viceversa c'è qualche piccolissima differenza che poi devo mettere a posto ma ultimamente non mi pare di vedere neanche più quelle quindi non mi faccio più di tanto un problema in passato invece questa compatibilità non c'era ed era un problema enorme il discorso di meglio uno meglio l'altro se è stato scritto con questo l'altro non lo legge era un problema poi ci sono evoluti in sostanza allora Dario l'ho ringraziato grazie infinite già prima ringrazio al volo Pina che vedo adesso grazie infinite Pina per l'uso della super chat che per noi è importantissima e torno indietro sulle domande allora Luigi se voglio dei font di scrittura particolari che non sono presenti nella versione online come potrei aggiungerne di nuovi? non credo che tu possa aggiungere font particolari nella versione online non mi sono mai posto questa cosa parto sempre dal presupposto che questo è gratis e quindi va bene così non mi è mai venuto in mente questi sono in font a disposizione vediamo quali sono ce ne sono comunque tanti non so se li prenda dal tuo computer o se li prenda dalle versioni online per cui non proprio non ti so rispondere su questa cosa sul computer sì posso aggiungermi o togliermi font ma qui online non ne ho idea allora Matteo come fare per scrivere una lettera con i margini sempre uguali automaticamente beh quello se capisco bene è il giustificato il giustifica questi servono a gestire l'impaginazione del testo questi due margini diciamo sono giusti sono giustificati sono tutti e due belli pari e se capisco bene la tua domanda si utilizza questo e lo vedremo in uno dei prossimi video si fa semplicemente schiacciando quel bottone lì allora vediamo cosa dice Sergio posso decidere di memorizzarlo sul cloud sì abbiamo visto che lui preferisce memorizzare sul cloud ma anche il world normale vuole farti memorizzare lì perché è la nuova frontiera il cloud quindi il nuovo posto sta a noi decidere se è bene o se è male a seconda della situazione dunque Carlo dice ma questi documenti si possono aprire solo grazie all'uso di internet non si possono salvare sulla memoria del vedo pf ma sarà del pc sì li possiamo salvare abbiamo visto li scarico il fatto di salvarli sulla nuvola è per renderli disponibili anche al computer che ho da basso anche al computer che posso avere in un altro ufficio io ormai quando vado da un posto all'altro se mi capita di andare anche a lavorare a volte da un'altra parte non porto niente la valigetta non serve più niente perché non ho bisogno di portare niente vado là devo solo sapere le mie password e quando arrivo ho già tutti i miei documenti online e quando il lavoro che faccio là salvandoli online è fatto a casa quando riapro è già tutto aggiornato quindi questo è il grosso vantaggio dell'online certo se dove vado non c'è internet e non si può fare perché se non c'è internet tutto questo si regge sul fatto che ci sia la nuvola di internet da poter raggiungere in questo modo allora vediamo Giovanna qual è l'estensione dei documenti salvati con Word online non ne ho idea ma DOCS eccolo qua il documento 7 DOCX che penso sia la stessa estensione del documento normale ma quando faccio salva del documento classico quando faccio salva vediamo se faccio salva con nome forse posso anche beh quando scarico scarico no sì DOCX quella è l'estensione quando scarico addirittura vedo qua lo vedo adesso vabbè posso scaricare in pdf ma posso scaricare anche come ODT quindi come un documento per programmi free come LibreOffice o OpenOffice per cui diciamo che mi trovo a dire brava Microsoft perché ha fatto un passo molto in avanti verso anche i programmi gratuiti che tutto sommato lei non è che ne avesse tanto bisogno la sua versione a pagamento è super e quindi vale i suoi soldi allora vediamo cosa dice Rita perché la chat non mi cammina qualcuno me lo sa dire e questo non ti so dire il discorso di cammina beh a un certo punto non si sta scrivendo niente oppure devi far girare la rotella per essere in fondo se non sei in fondo la chat rimane ferma perché pensa che tu stia visualizzando quei messaggi lì se invece giri la rotella fino in fondo allora poi la vedi muovere ad ogni messaggio nuovo Nika quindi una volta che ho elaborato un documento lo posso tranquillamente stampare certo io adesso non ho un documento qui ma si tranquillamente allora torniamo indietro a stampare un documento facciamo così chiudo un po' di questi vediamo se ce ne ha questo che ci sono delle scritte dentro file stampa stampa il documento ora mi chiederà quale stampante voglio utilizzare ecco qui la mia stampante la accendo il rumore che sentite è la stampante che si accende perché era spenta le stampanti laser tenetele spente se non le usate perché se salta la corrente c'è il rischio che si rompano ora vabbè qui mi dice errore di stampa non è riuscita a stampare probabilmente gli ho dato stampa troppo presto vediamo qui c'è la stampantina vediamo se clicco due volte per vederla stampa in corso probabilmente arriva tra un po' vediamo se riesco sono stato frettoloso gli ho detto di riavvia vediamo se me la stampa adesso eccola qua che arriva gli ho detto di stampare prima che la stampante fosse effettivamente pronta e qui posso chiudere questo documento eccolo qua il mio documento correttamente stampato vediamo se riesco a uscire da questa schiera adesso me ne stampa due perché gli ho detto riavvia e quindi ha stampato una seconda volta qui chiudo per tornare indietro eccolo qua quindi non ho avuto pazienza due volte dovevo semplicemente aspettare allora vediamo Domenico se ho già l'account di Libero e quello di Gmail mi devo registrare con quello di Libero o me ne invento uno nuovo no non te ne inventi uno nuovo funziona come le tessere del supermercato se tu vai già all'S lunga e poi vai già all'Ipercop se vuoi andare anche che ne so all'Idol puoi usare le tessere degli altri due o devi farti una tessera nuova messo che la faccia devi farne una nuova aziende diverse non sono collegate tra loro e se devi acquistare se devi usufruire dei loro servizi degli sconti di quello che è per i supermercati devi fare la tessera anche lì quindi noi finiamo per avere tre account se ci interessano quei tre servizi lì e basta è una cosa che mi chiedono sempre ed è difficile entrare nel ragionamento ma è così perché a noi sembra di fare un'unica cosa perché devo stampare con uno o con l'altro non mi interessa in realtà no perché sono aziende diverse che fanno la cosa allora Floran ho provato ad aggiornarlo ma non me lo aggiorna LibreOffice come mai forse è già aggiornato se non te lo aggiorna ti dirà non posso aggiornarlo perché o se non te lo aggiorna vuol dire che è già aggiornato se non sbaglio l'hai scaricato la settimana scorsa e quindi sicuramente è l'ultima versione allora ecco continua a chiedermelo l'aggiornamento ma non lo aggiorna nonostante seguo tutte le istruzioni potrei dirtelo solo vedendo personalmente il computer non sono in grado di aiutarti in tal senso non sforziamoci di volere gli aggiornamenti a tutti i costi se un aggiornamento in generale se un aggiornamento mi viene proposto dico di farlo e quello non lo fa devo dirmi meno male che non l'ha fatto perché se non l'ha fatto vuol dire che non andava bene per il mio computer nella situazione attuale quindi meglio tenersi la versione precedente che funziona piuttosto che quella giornata di cui non so neanche qual era questo aggiornamento che non avrebbe funzionato lo lascio lì lo ignoro tanto di aggiornamenti ce ne saranno altri siccome questo errore di aggiornamento verrà segnalato a un certo punto faranno un aggiornamento che andrà bene anche per me questo vale per i programmi ma vale e soprattutto importante per Windows non vi fa l'aggiornamento bene tranquilli così vuol dire che continuo a usare il mio computer bene se quell'aggiornamento si fosse installato comunque avrei avuto un danno qualcosa non funzionava una sicurezza ha impedito l'aggiornamento ok aspetteremo il prossimo e basta non c'è da sforzarsi a cercare di farlo a tutti i costi allora vediamo Nica io ho comprato Office e vabbè quello è un altro discorso e ci sta e ci sta Nica allora Tiziano quanti gigabyte di spazio ci sono nella versione Office Online nella versione gratuita 5 gigabyte in quella a 7 euro al mese di abbonamento se non sbaglio un terabyte lo vedevamo quando abbiamo fatto i video nei giorni precedenti di OneDrive che alla fine è quello che gestisce lo spazio vediamo cosa dice Emanuela un saluto per Emanuela Raffaele si può lanciare la stampa di un file dalla versione online sì lo abbiamo visto ormai allora Mary da un pc fisso per salvare i dati in Microsoft li devo salvare o importare sulla nuvola questo è un pc fisso no tu ti colleghi alla tua nuvola ci sei se li vuoi caricare sulla nuvola in quel caso guarda i video su OneDrive comunque OneDrive è qua io vado su OneDrive se voglio caricare qualcosa sulla nuvola vado su nuovo no aspetta carica non nuovo carica file vado a cercare il file fiore lo carico e questo fiore adesso sta andando sulla nuvola e a un certo punto si aggiornerà e lo vedrò quindi guardiamoci attorno non so se era questo o se è un altro faccio l'aggiornapagina per vedere perché ne abbiamo caricato uno anche l'altra volta e secondo me era sempre un fiore vediamo qui non ce l'abbiamo comunque è tutto quello che devo fare è questo 10 agosto 2017 era quello lì dai carichiamone un altro file così siamo sicuri carichiamo il gatto stavolta gatti non ce n'è al momento sto caricando un elemento in i miei file caricato eccolo qua era il fiore prima e adesso è il gatto allora andiamo avanti dunque Giordano da pc fisso per salvare i dati in microsoft devo salvare allora leggiamo bene perché pensavo di non aver visto questa messaggio Raffaele si può stampare Mary ha detto ok Osvaldo Filippo tra Word online e Google documenti sempre online quale quale ti sembra più complicato non lo so a me sembrano tutti e due uguali come funzionamento a me sembrano normali perché io so usare Word quello normale quindi quando vado nell'online me lo ritrovo normale in Google documenti vedo che fa un sacco di cose non lo so è molto soggettivo devi solo provare l'uno o l'altro non è che ci interessa il più complicato ci interessa quello che fa quello che mi serve quindi può essere anche semplice ma se poi non fa quello che mi serve non mi va bene dipende dal grado di utilizzo ecco ah più completo scusami non lo so il discorso del completo secondo me l'uno o l'altro si equivalgono ciao Elvira allora buonasera dove sta la X per chiudere il file nel Word Online non c'è si chiude con questa X qua quindi ad esempio qui siamo beh no quando hai salvato chiudi direttamente con questa X qua adesso ne ho diversi aperti e quindi è questa X qua che chiude il programma e di conseguenza anche il file allora Mauro bella la cosa della dettatura allora Dibril ciao Daniele ho Acer ma quando entro nel BIOS non trovo la voce advanced per abilitare la virtualizzazione sai dove si trova? non c'è se non la trovi guardando ovunque vuol dire che non c'è non c'è sempre e non c'è soprattutto su tutti i computer c'è da un periodo in avanti ormai c'è su tutti ma c'è stato un periodo in cui su alcuni non c'era perché a un certo punto è stata introdotta quindi se non ce l'hai non ce l'hai se guardando in tutte le voci non la trovi non c'è semplicemente allora iGlanderView posso fare un collegamento dei file sul desktop? no se non li hai scaricati penso proprio di no proviamo super pepita il mostro sì che invece si può fare grandissimo avrei detto di no vediamo se me lo apre quindi rimpicciolisco tutto premo adesso me lo apre con l'altro account eccolo qua sì sì lo aprirebbe ora mi apre con Google Chrome non posso vederlo quindi posso dire di aver imparato una cosa nuova grazie all'Underview sì comunque si può fare il collegamento sul desktop allora Alberto i documenti scritti salvati su memoria esterna li ho ritrovati anche su Word Online che neanche sapevo di avere non ci capisco più nulla vuol dire che non hai fatto le cose bene cioè non ti sei reso conto di quello che succedeva e bisogna fare attenzione adesso che c'è l'online bisogna fare attenzione allora ciao Gianfranco mi è scappato il messaggio che ore sono adesso siamo arrivati in fondo ok allora facciamo così ne leggo un paio a caso un po' più in fondo vediamo un po' Sergio avere lo stesso file su pc e cloud non crea confusione infatti mai avere due file uguali uno su computer uno sul cloud non ha senso secondo me uno o sulla nuvola o nel computer due è confusione lo dico per cognizione di causa perché vedo un'infinità di computer e un'infinità di persone che poi non sanno più qual è quello aggiornato quello non aggiornato quindi si sceglie un luogo di destinazione del file perché mi interessa e poi quello è un'unica coppia voglio essere sicuro del salvataggio se lo faccio sui miei sui miei dischi si utilizza adesso che c'è Windows 10 lo spazio di archiviazione perché quello salva contemporaneamente su due dischi mantenendoti un'unica coppia c'è il video apposta ve lo consiglio quello spazio di archiviazione lì perché io lo uso con grande soddisfazione funziona bene ma i file secondo me o sulla nuvola o nel computer basta non duplice copia troppi pasticci eventualmente questo collegamento lo butto via altra domanda a caso scorro un po' vediamo questa di Giuseppe che è un po' lunga salve ci sono programmi per convertire file di qualsiasi formato di grandi dimensioni per conversioni da file word in pdf e viceversa me ne può far vedere qualcuno ce ne sono un'infinità basta cercare su su google convertire da a che ne saltano fuori un'infinità non so dirti neanche quali sono perché quando mi serve prendo a caso il primo che il primo che trovo e di solito funziona vediamo un'ultima domanda e poi ci salutiamo Emilio Daniele io ho office 365 registrato con gmail e non ho nessun problema cosa mi dici bene male a registrarlo con gmail funziona però di fatto tu hai fatto confusione con gli account gmail e microsoft ovvero quando hai attivato l'account microsoft gli hai dato il nome di gmail si può fare ma sarebbe meglio evitare una cosa di qua e una cosa di là così riusciamo a distinguere benissimo le cose siete in tanti aver fatto questa cosa se si può fare va bene chi lo ha fatto non si preoccupi ormai è così non si possono mettere a posto le cose adesso se si può si fanno solo dei pasticci se si prova si fanno solo dei pasticci e dei guai funziona benissimo hai la tua organizzazione bene così ma in futuro chi deve creare un account con un'azienda non dia il nome dell'altra perché poi si mescola non si capisce cos'è uno e cos'è l'altro meglio gmail di qua microsoft di là libero da un'altra parte eccetera eccetera quando creo un account non uso un nome di un account che ho già utilizzato diverso è se mi chiedono l'indirizzo email cioè mi dicono creiamo l'account mettiamo la password per recapito ti chiedo un indirizzo email certo come recapito allora devo dargli un indirizzo email esistente ma quando mi chiedono il nome dell'account non metto il nome usato anche da un'altra parte sia per una questione di sicurezza ma soprattutto per la confusione che viene fuori in tante in tante situazioni e lo so perché lo vedo abitualmente di solito si fa questa cosa quando si è un po' inesperti e quindi non ci si rende conto se è stato fatto così va bene non c'è assolutamente nessun problema continuiamo così in futuro sappiamo che evitiamo basta non c'è nessun problema né da preoccuparsi ok ragazzi è stato un piacere avervi tutti quanti qui in collegamento con me e vi do appuntamento domani sera alle 18 se volete farmi compagnia sono qui vado sulla schermata dei saluti e eccoci pronti per i saluti e devo fare così ciao a tutti grazie infinite ciao a tutti 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 ciao a tutti